L'entusiasmo che oggi in questa prima seduta di lavoro si nota fortemente, nasce naturalmente e chi parla è veramente molto soddisfatta dalla consapevolezza di aver riscosso un grandissimo successo nella ultima elezione per il Consiglio Superiore della Magistratura. Siamo particolarmente contenti perché abbiamo compreso che i colleghi hanno apprezzato i nostri programmi, le nostre idee, la nostra coerenza, probabilmente anche il nostro modo di svolgere la funzione e quindi di esercitare la giurisdizione. Siamo la corrente che più delle altre ha creduto fortemente e ha scommesso sulla componente femminile perché due eccellenti colleghe, Loredana Miciche e Paola Braggion, candidate da Magistratura Indipendente, sono state elette anche con delle affermazioni importanti. Loredana Miciche in vuota Cassazione è per Magistratura Indipendente un successo veramente notevole anche perché si tratta di una elezione particolarmente complessa, quella della componente di legittimità, per la collega Paola Braggion va detto che tra i giudici di merito che hanno ricevuto un maggior numero di consensi in assoluto.